Musica Fare i conti con l'ambiente, terzo giorno, Lab & Camp, conferenza, anticonferenza con la partecipazione dei giornalisti, tra cui il nostro caro amico e ormai decano, Umberto Torelli. Tanti temi questa mattina, puoi così riassumerci le cose più calde, più interessanti? Sì, direi che nella tematica più calda c'è questo discorso che sta emergendo del micro fotovoltaico, quello che abbiamo chiamato il fotovoltaico fai da te. In pratica dei pannelli di dimensioni ridotte, 150%, si acquistano addirittura online, ti arrivano a casa con una staffa le monti sul balcone, attacchi la spina perché tutta l'elettronica è già integrata all'interno e il pannello è pronto per produrre 250 watt di energia. Questo ha i vantaggi, primo, di non dover in nessun modo sottostare a certificazioni o burocrazie. Non c'è bisogno di nessun installatore, quindi è proprio fai da te, o plug and play, come dicono gli inglesi. Una volta che è connesso in rete, cosa succede? Tutto il fabbisogno che lui eroga, se consume 250 watt, ok, altrimenti non posso rimettere in rete ovviamente il surplus, e quindi o provvedo con un sistema di ricarica batteria per accumulare energia, o in qualche modo ci sono dei limitatori, perché ovviamente per legge io sono da una parte nel mio ambiente domestico, dall'altra nell'ambiente pubblico di chi eroga l'energia e i servizi, e quindi devo rimanere comunque nel mio. Il vantaggio è che non ho problemi né di ammortamento né di piani, come dire, di recupero dell'investimento. Costano attorno ai 5-600 euro per modulo, se non mi bastano 250 watt, posso quando voglio incrementare con altri moduli. Certo, Ravenna è un florilegio di temi, di spunti. Volevo fare così un richiamo alla conferenza di ieri sera di Fabrizio Cardinali che tu hai moderato. Di questa conferenza a me personalmente è rimasta, oltre alla forza visionaria di Cardinali, anche un'impronta di positività. Vogliamo lanciare un messaggio positivo? Sì, allora, è un momento in cui non sapendo cosa succede dopo domani al governo, essere positivi è dura, ma direi la positività sta nel fatto, e il messaggio è rivolto soprattutto ai giovani, mai perdersi di coraggio, fai adesso e non aspettare domani, perché ovviamente come recita il proverbio cinese, se non l'hai fatto 20 anni fa è il momento migliore adesso, quindi non aspettare, essere creativi. Creativi vuol dire uscire con idee nuove, in qualche modo se è possibile cercare chi le finanzia, se non si riesce comunque partire, non lasciarle perdere. Questo, come dire, è l'unico messaggio positivo e un po' che può rincuorare, altrimenti la scelta in me non è che quella di andare all'estero e andare a fare le migrante della cultura, ma questo è un altro discorso. Un discorso lunghissimo. Un discorso lungo. Grazie, grazie a Umberto Torelli. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.